Nel 1968 presso la base artica di Ultima Thule, il personale militare di un piccolo avamposto dedito al controllo radar del traffico aereo su ruote polari, assiste con sorpresa e sgomento ad un UFO crash, che cosa scopriranno e che cosa accadrà ai pochi militari del piccolo avamposto, è questione narrata in questo breve racconto di fantascienza.